Conclusa la settimana internazionale non si arresta l'attività del Comitato Ionico etneo della Croce Rossa Italiana sempre in prima linea in tutto il comprensorio. Ieri mattina i volontari hanno dato vita nella centralissima piazza San Pietro a riposta ad una simulazione di protezione civile. Montata in piazza una tenda utilizzata in caso di calamità naturale come base operativa. Grande la curiosità della gente che ha chiesto informazioni sui protocolli messi in atto durante le emergenze. E' importante soprattutto, è uno dei nostri compiti, quello di permettere alla cittadinanza di conoscere le attrezzature e le tecniche di protezione civile sia per una preparazione che una prevenzione all'attività di emergenza. La simulazione è stata organizzata in collaborazione con il Dipartimento regionale di protezione civile che ha messo a disposizione del Comitato Ionico etneo della Croce Rossa Italiana mezzi e uomini.